Dall'altronde, oh, siete comunque delle persone, quindi no, giustamente non vedevi arrivare, arrivo al lavoro, non c'è qua neanche la, come si chiama, la macchina dei quattro signori di ieri mattino, ho detto, ma, dopo ho visto la prima pena che è entrata in negozio, allora è venuto sul fiato. Allora, di fatti noi siamo qua, grazie ai buoni contatti tra il nostro socio Montietro e il signor Tomasino, che da anni appunto hanno rapporto commerciali, noi come gruppo di Tricchiana, innanzitutto vogliamo ringraziare e tramite il signor Giorgio, il signor Giorgio, che in questo momento è responsabile qua, vogliamo ringraziarvi per sempre la gentile ospitalità e per l'ottima, l'ottimo posto, anche perché siamo sistemati in maniera egregia, con un grande rapido spazio, con servizi e tutto quanto, per cui noi siamo veramente grati, a nome del gruppo di Tricchiana, vi abbiamo portato alcuni prodotti dei nostri locali, dei nostri posti, da non confondersi con i vostri, che sono buoni anche i vostri, giustamente, a ognuno il suo. A giorno d'oggi bisogna, no? La polenta è una roba che ci accomuna, no? Mentre, allora, qua che ne ho un po' di tutto, sa? C'è dentro lo scudetto del nostro gruppo Alpini-Santilice, no? Tricchiana, viene dentro un po' le Verdiapa-Trolino, la Jamonganga, no? Così. e, nel contempo, ne ringraziarvi di questo, noi vogliamo dirvi che abbiamo una bellissima sede in Tricchiana, provincia di Telluno e che fin d'ora voi siete invitati. Se avete l'occasione di telefonarvi, avete i nostri percapiti, noi saremmo contenti di vi ospitarvi. Allora, io questo, voi, signor Tomasi, questo io lo devo dare al signor Cesare Tomasi. Lo fidiamo noi ragazzi, se no ci sono paura a casa. Noi, noi, noi... Sperate che signor Tomasi sia giudici. Dividete tutto e portate la cesta al signor Tomasi. No, io domanda. Se mi arrivo a prendere la cesta, dove? Allora, queste sono le carabili fotografate della nostra sede, nel periodo di carnale, nel periodo di vestito, così. Questo è lo stemmo, Grazie a tutti. Grazie a tutti.